Un po' il nervosismo, un po' l'imprecisione, un po' l'avversario, un po' la sfortuna. Un po' tutto e un po' niente in realtà, perché la Tristina ieri aveva l'obbligo di riscattare la sconfitta di Montebelluna e raccogliere punti contro l'Union Ripa alla Fenadora, compagine che si attesta a metà classifica ed autrice di una partita onesta e per certi tratti molto furba per aver addormentato e di nervosito la gara più ripresa. Il primo tempo non ha riservato grandi emozioni, i padroni di casa schierati con il 4-4-2 e con il solo Giordani di fatto come terminale offensivo non riescono a pungere la retroguardia nero-verde se non con qualche debole e dinocuo tentativo. Gli ospiti intravedono gli spazi giusti per potersi inserire fra le linee difensive dell'Unione ma solo al 34esimo concretizzano mandando in gol Madiotto che con un colpo a giro spiazza il portiere Vezzani. L'Unione tenta la reazione ma anche in questo caso è poco incisivo il forcing innescato dai ragazzi in maglia rossa. Giordani Prime, Di Dionisio e Doppo, viva Cilza nel match concludendo verso la porta a difesa da Scaranto non riuscendo però a trovare il colpo giusto per pareggiare i conti. Nella ripresa Eduardo cambia la squadra proponendo un assetto più offensivo Cornacchi entra per Milani e poi Fantina per Galasso. Le sostituzioni rendono l'Unione più votata all'attacco ma le diverse componenti già citati in apertura di servizio non producono l'effetto sperato. Eppure nonostante tutto l'occasione per far impennare la contesa c'è. L'arbitro vede un fallo in area e decide per il calcio di rigore. Decisione un po' inaspettata e contestata dai Veneti con tanto di tafferulli fra giocatori ed una bella esibizione teatrale dai portieri e ospite che con un nulla, alias una spinta leggera subita da un giocatore della Tristina frana al suolo neanche fosse stato colpito da Bradley Cooper con un colpo del suo M40. Ma battute a parte, il portiere Scaranto è bravo poco dopo ad ammaliare o meglio ad intercettare il tiro dell'avanti rosso alla bardato e neutralizzare il rigore. Domanda per gli esperti, è stato più bravo il portiere o ha calciato male Giordani? Ma proseguiamo perché dopo il rigore fallito l'Unione ci ha provato ancora soprattutto nel finale quando per doppia munizione di Peotta e siamo al 42esimo, l'Union Ripa rimane in 10. La Tristina però non ha colpi al suo fucile e si avvia al triplice fischio con un pugno di nasca in mano. E mentre in campo c'è ancora qualcuno con qualcosa da ridire e circa 700 tifosi si allontano sconsolati.